ciao a tutti amici di vlad che spara e sa cose e spam shooting oggi siamo sulla linea di tiro per provare il drys modello 1841 oggi è una giornata molto calda quindi diciamo che soleggiata quindi siamo nelle stesse più o meno le stesse condizioni che incontrarono i prussiani a königrath nel 1866 quindi aggiungiamo realismo spariamo a 50 100 e 200 metri contro una sagoma umana con queste munizioni fatte da me speriamo che funzioni bene gli inneschi e niente vediamo com'è se la cava per massimo realismo ho dimenticato chiaramente la giberna che del drys quindi usiamo questa sacca come giberna e iniziamo 50 metri dai bello spariamo 5 colpi a 50 5 colpi a 100 e il resto a 200 metri e vediamo cosa concludiamo sto mirando al centro massa quindi simuliamo quello che potrebbe essere proprio l'ingaggio contro un nemico che ci sta sparando il fucile si sta comportando abbastanza bene ah ho parlato troppo presto innesco fallato quindi facciamo vedere come si risolve questo problema vedete che la bacchetta non l'avevano tolta non serve più a caricare ma serve a cacciare fuori le cartucce fallate questa purtroppo è colpa degli inneschi ho usato gli inneschi di quelli diversi dal solito e la cosa non ha pagato non 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 ok andiamo a vedere a 50 metri andiamo a vedere a 50 metri come è andata bene avete visto che è a 50 metri l'abbiamo headshotato quindi vuol dire che mirando al centro massa è andato alto adesso spariamo a 100 metri ci aiutiamo anche con la cinghia tiro mirato e spariamo ai 100 metri allora tutto ciò Grazie a tutti Tiriamo l'ultima Vedete che Vedete che il fucile nonostante sia abbastanza sporco qua dietro si manovra sempre senza problemi È un sistema veramente affidabile Vediamo l'analisi del risultato Ok quindi abbiamo visto che a 100 metri nonostante tutto si è riuscito a piazzare una bella rosata in sagoma Adesso vediamo a 200 Ormai il caldo è talmente allucinante che faccio fatica anche col sole a vedere le mire Però ci proviamo lo stesso 200 metri Sperando che gli inneschi non ci abbandonino Lo prenderemo Grazie a tutti Palla troppo presto Gli inneschi ci hanno abbandonato anche sto giro Non riesco neanche più a prenderlo dalla canna da quanto è caldo Non riesco a prenderlo Ho preso una piastra Quindi vuol dire che siamo in bersag... L'alzo è giusto Ma sto facendo una fatica allucinante A guardare le mire A guardare le mire A guardare le mire Direi di aver preso una piastra Vabbè andiamo a 200 metri a vedere il bersaglio Allora 200 metri Abbiamo un buco qua Un buco qua, uno qua E uno che secondo me è arrivato qua ha preso un ramo e non ha forato bene Quindi diciamo che comunque Io non vedevo niente, secondo me è già tanto Poi abbiamo visto che uno è andato per i suoi e ha beccato la piastra Un altro ha beccato un ramo Comunque facevo fatica a già vedere le sagome Vediamo che comunque Le mire scusate Vediamo che comunque insomma il fucile può farcela 200 metri è ancora una distanza a cui ipoteticamente si può pensare con quest'arma di colpire una figura Anche se diciamo all'epoca a 200 metri bene o male era 100-200 metri Erano le distanze di scontro tra linee di fanteria Quindi si sparava a linee contrapposte Quindi il fuoco comunque di quest'arma era molto efficace a quella distanza Cosa possiamo dire? Abbiamo visto che il fucile a parte problemi di innesco delle cartucce Cioè che questi purtroppo dipendono dalle munizioni che ricreiamo Quindi diciamo non è colpa del fucile Il fucile ha sempre sparato bene Non si pianta Quindi diciamo che era veramente il Kalashnikov del 1800 Anche se in seguito è stato superato sulla carta Fucili come lo Chaspot Il Dries manteneva comunque dalla sua una maggiore affidabilità Che lo rendeva competitivo anche durante la guerra franco-prussiana del 1870 E bene direi che la prova è terminata Amici di Vlad e amici di Sbam Ci vediamo alla prossima E grazie